Nel 58 di nuovo a Cervia mi capitò una cosa che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze però io facevo il fanalino, eravamo in nove, come la Pandia adesso, io facevo il secondo fanalino, il primo fanalino, ero in mezzo lì e qui c'era il povero Villani che dopo ho fatto la pattuglia di nuovo anche lui e in un tonno avevo sentito io un po' uno scuotimento però non ci avevo fatto un grande caso perché facendo il fanalino hai le scia di quelli davanti e poco o tanto li senti no? Allora facciamo tutto il programma acrobatico e a un certo dopo quando vieni a terra dai uno sguardo dentro sai come con uno sguardo vedevi tutto il cruscotto se andava bene no? Era abituato e guardo l'indicatore di velocità tan tan faceva la lancetta no? Adesso mi è venuto un dubbio guardo faccio così che c'avevo il tubo di che si ripetò sull'estremità della sinistra lungo paio di metri anche più e lo vedo tac piegato così no? Porca ma allora dico qua sono andato a toccare qualcosa no? Allora senza dire niente mi sono spostato sotto all'aeroplano di Villani perché solo lui poteva aver toccato no? E guardavo oddio ma dico gli avrò fatto dei danni vediamo che danni gli posso invece niente non si è non sono riuscito a vedere niente e neanche a terra dopo e dopo dopo sono venuto senza dire niente ho detto guarda io a terra in coppia con lui perché perché ho qua qualche problema di velocità e sono venuto a terra così quando sono arrivato al parcheggio c'era Bladelli già lì che arrivava si è venuto a vedere ha fatto così madonna dice no perché dice che poteva capitare qualcosa qua oh non siamo riusciti a capire mai dove avevo toccato questo tubo eppure potevo aver toccato solo perché io stavo attaccato con i denti pur di mantenere la posizione e anche il Villani povero e lui magari si sarà sfilato un po' con sto tubo e l'F84F allora c'erano di due tipi uno aveva il tubo di Pitò sulla sinistra e uno ce l'aveva sulla divisoria della presa d'aria davanti al centro dopo nella la pattuglia dei genti tonanti avevo quello col Pitò al centro che aveva anche il motore v6 v7 che aveva un po' di spinta in più che aveva un po' di spinta in più che aveva un po' di spinta in più